La più grande mobilitazione globale di cittadini e comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico. L'iniziativa promossa dal WWF è stata denominata Heart Hour, l'ora della terra, un'ora simbolica per dimostrare l'attenzione verso l'ambiente e il suo rispetto. L'iniziativa ha visto partecipare l'Abruzzo con 40 comuni che, a proprio modo, hanno offerto aiuto. A Pescara l'attenzione è stata posta la spiaggia sottostante e il ponte del mare, rifugio del fratino, specie in via d'estinzione. Tantissime sono anche le iniziative di volontariato e di attenzione all'ambiente. A Pescara abbiamo scelto una particolare, unendo i cambiamenti climatici a quella che è un'altra emergenza, cioè la tutela di un uccello, il fratino, che nidifica sulle nostre coste proprio nel periodo estivo e quindi è un po' minacciato dall'azione dell'uomo che all'inizio della stagione balneare chiaramente ripulisce tutte le spiagge. Noi procediamo con delle pulizie invece a mano nelle zone dove il fratino è presente, così da poter coniugare da un lato la valorizzazione e quindi il turismo delle nostre cose, ma dall'altro anche la tutela di questo importante animale, che peraltro è segnale anche di un'attenzione alla biodiversità di tutto l'Abruzzo. La sensibilità sta crescendo e anche oggi c'è una buona risposta da parte delle scuole con le quali stiamo portando avanti anche una serie di iniziative per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro che rendono praticamente protagonisti i ragazzi e il mondo della scuola in generale di quelle che sono le battaglie per la tutela ambientale e per la protezione del nostro territorio. Grazie. Grazie.